Il Tar del Lazio ha dato ragione alla Juventus consentendole di visionare la carta segreta cioè la comunicazione di aprile 2021 della Covisoc alla procura federale FGC nella quale appunto l'organismo Covisoc segnalava la necessità o forse l'importanza di andare ad analizzare meglio determinate operazioni di calciomercato per alcuni club di serie A che potevano essere affette da irregolarità Sarà la procura federale a dover esibire questa carta alla Juventus entro pochi giorni e quindi scopriremo che cosa c'è dentro Al momento sappiamo soltanto che si è trattato di questo tipo di comunicazione ma non sappiamo bene di preciso neanche se potrà essere importante per il processo sportivo sulle plusvalenze che adesso pende davanti al collegio di garanzia del CONI Per i giornali si tratta di un punto a favore della Juventus una sorta di vittoria anche se intermedia interlocutoria in attesa appunto di vagliare il contenuto di questa carta segreta Da precisare però che il ricorso al Tar non è stato presentato dalla società Juventus ma da paratici e cherubini contro la loro inibizione Ecco intanto scherzosamente diciamo che il presidente e il relatore della sezione Tar che ha adottato questa sentenza Francesco Arzillo è di Santa Maria Capuavetere ma questa volta la macchina del fango Juventina non credo che si attiverà contro il giudice Campano e quindi tifoso del Napoli perché ha deciso in favore della Juve quindi tutto a posto Ma vediamo più nello specifico che cosa può comportare questa decisione eventualmente a vantaggio della Juve per recuperare i 15 punti di penalizzazione perché poi è quello che ci interessa La questione è se la procura federale della FIGC con il deferimento di fine 2021 ha tardato rispetto al termine previsto dal codice di giustizia sportiva per avviare il procedimento Cioè se questa comunicazione Covizoc può essere considerata comunque un atto già che implicava l'obbligo per la procura di avviare un procedimento di avviare l'indagine oppure una comunicazione pre-investigativa pre-indagini, pre-procedimentale che di conseguenza non comportava nessun obbligo In realtà siccome già nelle fasi precedenti di questo processo sportivo le difese e la difesa della Juventus avevano avanzato una richiesta di visionare questa carta segreta ci sono già state delle pronunce di inammissibilità di questi motivi di ricorso e nella motivazione della sentenza della Corte federale che condanna la Juve a 15 punti di penalizzazione è scritto dettagliatamente qual è il punto giuridico della questione Intanto, tra parentesi, è comunque una notizia positiva che la Juve possa avere accesso a questa carta perché se ne aveva diritto, come ritengono i giudici amministrativi è giusto che possa visionarla e quindi è stato sbagliato negargliela da parte della Covizoc da parte della Procura federale e degli altri giudici che sono intervenuti su questo punto Ma dicevo, la motivazione della sentenza ci sono diversi capoversi nell'arco di circa una pagina nella motivazione della sentenza emessa lo scorso 20 gennaio 2023 che spiegano che se anche questa carta dimostrasse che la Procura avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine prima di quando l'ha fatto ciò non implicherebbe in nessun caso secondo il Codice di Giustizia Sportiva l'annullamento, l'irregolarità, l'inammissibilità di tutto il procedimento per deferimento tardivo al massimo implicherebbe la non utilizzabilità di tutti gli atti che sono stati acquisiti dalla Procura federale successivamente alla scadenza del termine per la reale procedibilità che dovrebbe ricadere intorno a metà luglio cioè in pratica la Procura federale ha deferito vari club tra cui la Juventus in autunno ben oltre il termine che si suppone fosse la reale deadline per iniziare le indagini di conseguenza se questo è vero e lo sapremo leggendo il contenuto di questa carta segreta allora tutti gli atti di indagine tutta la documentazione tutto quello che è stato acquisito dalla Procura federale dopo metà luglio non poteva essere utilizzato nel procedimento Plus Valenze 1 ma su questo la Corte federale ha già spiegato che se anche fosse così il processo riassunto in questo 2023 quindi con il ricorso in riassunzione per questi fatti nuovi non verrebbe minimalmente scalfito e questo secondo il codice di giustizia sportiva non secondo i giudici non secondo un'opinione perché? perché trattandosi il fascicolo della Procura di Torino di documenti estranei alla giustizia sportiva e non acquisiti nell'ambito di quella fase indagini che si sarebbe svolta ipoteticamente in ritardo e trattandosi di elementi che costituiscono fatti nuovi sono fatti salvi anche nel caso di deferimento tardivo diverso sarebbe stato il caso in cui a causa di questo ritardo nel proporre il deferimento anzi nell'avviare le indagini il processo e tutta la procedura sarebbe stata dichiarata inammissibile a quel punto sarebbe venuto meno tutto e sarebbe stato travolto anche il processo riassunto quest'anno direttamente davanti alla Corte Federale d'Appello invece questa parte del processo che adesso pende in appello davanti al Coni con ricorso della Juventus sarebbe fatta salva in ogni caso ecco perché la carta segreta della Covisoc probabilmente non aiuta in nulla la Juventus se non eventualmente per rafforzare le argomentazioni del ricorso in appello ma in termini procedurali in termini quindi di ammissibilità non cambia letteralmente nulla nessun atto sarebbe inammissibile soprattutto nulla delle risultanze della Procura di Torino le famose 14.000 pagine verrebbero meno all'attenzione dei giudici e quindi questa carta non può scalfire in alcun modo le motivazioni della sentenza della Corte FGC questo è quello che sappiamo ad oggi ma è altamente probabile che è quello che sapremo anche una volta svelato il contenuto della carta lasciatemi chiudere però con un'ultima considerazione l'importanza che viene conferita a questa carta e a questa vittoria tra virgolette della difesa della Juventus davanti al Tar non fa che comportare purtroppo la totale inconsistenza delle motivazioni di merito della stessa difesa della Juventus cioè se per riottenere i 15 punti bisogna invalidare tutto il processo solo per un cavillo solo per una questione procedurale vuol dire che nel merito non c'è nulla da obiettare e quindi l'esito nel caso sarebbe quello dell'impunità non della soluzione per innocenza una difesa che gioca tutto su un vizio procedurale vuol dire che sa benissimo che il suo assistito è colpevole e questo è molto preoccupante anche per chi spera da tifoso o meno che la Juve possa uscirne pulita ma appunto con merito lasciando stare chi sostiene impunemente pure lui che il merito nel calcio non conta nulla e invece conta nel calcio e nella giustizia perché altrimenti stiamo parlando di ingiustizia anche in caso di assoluzione l'ingiustizia non è solo in caso di condanna ingiusta ma anche in caso di impunità quindi piano con l'euforia piano con l'esultanza vediamo cosa c'è nella carta Covizoc ma partiamo dal presupposto che molto probabilmente sarà inutile e meglio così perché dovesse invece essere decisiva sarebbe veramente un'ingiustizia grazie a tutti grazie a tutti